Ben trovati con Dialoghi sulla fede, ben trovato padre Francesco. Ben trovati a voi. Siamo in avvento, manca poco al Natale. Sì, siamo in avvento, periodo che prepara appunto la venuta di Gesù, così diciamo lo si definisce liturgia. L'avvento è il periodo con cui inizia l'anno liturgico, inizia il nuovo anno. Ci sono vari modi di iniziare l'anno, di far iniziare l'anno, perché noi prendiamo in considerazione sempre il fatto che l'anno inizia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre. Ma questo è uno dei modi di contare il tempo. E non è detto che sia quello più... Il giusto? No, ma non dico il più giusto, anche perché poi alla fine dietro a queste cose ci sono sempre tre convenzioni, che partono da dati scientifici e va bene. Però è un modo che tu hai per dire troviamo una convenzione su cui tutti poi siamo più o meno d'accordo. Ma di fatto l'anno lavorativo, l'anno sociale, l'anno scolastico non parte il primo gennaio e termina il 31 dicembre, almeno in Occidente o comunque in Italia. Parte a settembre e finisce a maggio, finisce a giugno l'anno scolastico. L'anno lavorativo inizia a settembre e termina normalmente a fine luglio, insomma c'è l'agosto che prima era il mese di ferie, adesso le ferie si sono ridotte a 15 giorni, 10 giorni. Comunque è sempre agosto il mese che consideriamo come il mese di reset delle ferie. Come ci sono quindi diversi modi di considerare l'anno, di fatto c'è un modo anche della liturgia di considerare l'anno e quindi di misurare il tempo. E il modo della liturgia è proprio questo. L'anno liturgico inizia con la prima domenica d'avvento che normalmente cade tra l'ultima settimana di novembre e la prima di dicembre e termina appunto con la 34esima domenica dell'anno liturgico con la festa di Cristo Re che appunto è la domenica prima della prima domenica d'avvento. E che quindi, eppure là, siamo sempre verso fine novembre, più o meno, quindi la settimana esattamente prima. Perché, diciamo, l'anno liturgico inizia con la prima domenica di avvento? Perché, diciamo, il giorno di Natale sostanzialmente cade quasi a fine anno, cioè cade alla fine dell'anno solare in un qualche modo. E questo giorno, che viene fissato come il giorno della nascita del Salvatore da tempi antichissimi fondamentalmente, in realtà viene preceduto da un tempo variabile, poi viene fissato, di preparazione. Cioè le feste principali che sono il Natale come seconda festa importante dell'anno liturgico e la festa di Pasqua, che è poi quella più importante, vengono precedute, de fatto, da un periodo di preparazione, che è un periodo di conversione, un periodo di penitenza. Cioè per prepararsi alla festa bisogna in un qualche modo fare la fatica di arrivarci preparati. È un po' come dire, io devo fare una festa a casa, che cosa faccio? Incomincio a fare la pulizia, sistemare, rinnovo i mobili o rinnovo, ripitturo le pareti, eccetera, eccetera. Perché? Perché mi sto preparando a questo evento che per me è importante. Un po' la logica è la stessa, cioè devo prepararmi a vivere questo momento di festa? Questo momento di festa deve essere preparato da un momento che normalmente è un momento di penitenza a cui ci si richiama in modo particolare la conversione. Solo che tra il momento di penitenza della quaresima, il momento di penitenza dell'avvento, c'è una differenza abbastanza forte, abbastanza grossa. Il momento della quaresima in un qualche modo ripercorre le tappe che portano Gesù alla morte in croce, quindi ripercorrono delle tappe dolorose. Il tempo d'avvento invece è il tempo che ti separa dalla nascita, quindi da un evento gioioso di natura sua e quindi il periodo d'avvento porta in sé il tema della gioia, cioè non il tema del dolore che invece viene in un qualche modo riservato al periodo quaresimale. Prima di cercare di capire invece quando comincia il tempo di Natale, ricordiamo che potete scriverci sui nostri profili social, quindi Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, oppure potete scrivere al numero di telefono che vedete scorrere. Allora, il tempo di Natale comincia il 25 dicembre, più o meno? Sì, cioè nel senso che inizia il 24 pomeriggio. E termina invece col battesimo. Fammi spiegare almeno perché inizia il 24 pomeriggio, perché se no il giorno di Natale è il 25, quindi il tempo di Natale inizierebbe il 25, però c'è sempre questo fatto che il giorno della festa, della festa grande in Israele, non inizia anche qua, vedi, ci sono diversi modi di contare il tempo, anche i giorni, quindi non solo l'anno, anche il giorno. Il giorno della festa non inizia a mezzanotte del giorno stesso, quindi noi dovremmo dire con la messa di mezzanotte alle 24, quindi la notte tra le 24 e il 25 dicembre. Non inizia alle 24, ma inizia al calare del sole del giorno precedente, il giorno della festa, perché è terminato il giorno precedente e inizia il nuovo giorno, che inizia però con la sera. E quindi la festa grande di fatto viene anticipata alla sera prima, parte dalla sera precedente, quindi il giorno di Natale di fatto, quindi il tempo di Natale, inizia il 24 pomeriggio, dopo il tramonto, quindi con la prefestiva di Natale, sostanzialmente, quindi c'è una messa prefestiva del Natale, che noi al santuario celebriamo alle 17 alle 18, perché noi normalmente abbiamo tre messe pomeridiane, prefestive, il sabato sera, 17, 18, 19 e 30. A 19 e 30 non ci proviamo proprio a fare la messa, perché stanno tutti a friggere i baccalà, ai capitoni, non so che cosa, stanno a preparare questo grande cenone di Natale, quindi alla fine sarebbe inutile te la celebresti da sola, la messa a quell'ora. Però il periodo di Natale appunto inizia con la prefestiva del Natale, poi c'è la messa di mezzanotte, è la messa in cui si celebra proprio la nascita di Gesù, che è una messa che va fatta in tarda nottata, cioè in tarda serata, non si può fare al pomeriggio, qualcuno l'anticipa, ma di natura sua quella messa va fatta di notte. Sì, c'è stato di solito a Bari, c'è una chiesa che la fa il pomeriggio, perché in un quartiere un po' particolare la gente ha paura di andare in giro a notte, insomma inoltrata, per cui il sacerdote andando incontro alla sua comunità che è composta per lo più di anziani, l'anticipa alle sei del pomeriggio, ma solo per questo motivo. No, ma non, allora, non si può proprio fare, non si può fare perché liturgicamente è vietato in realtà. Tu quello che puoi fare è seguire il ritmo del tempo, e il ritmo del tempo ti dice che c'è una messa prefestiva, di fatto c'è la prefestiva del Natale, puoi celebrare alle sei del pomeriggio, non celebri la messa della notte, ma celebri la messa prefestiva del Natale, cioè la messa che annuncia l'avvento del Natale. Perché? Perché quella messa di mezzanotte, quando la notte, la metà del suo corso, richiama se io, spunta una grande luce, cioè fisicamente deve essere proprio buio e stai nel pieno della notte, è la luce che viene a illuminare quella che sembra una speranza che è stata persa. Cioè di natura sua anche il tempo, in quel caso, proprio l'ora in cui si celebra. È il buio, insomma. È il buio, più scuro dalla mezzanotte non può venire, si dice a Napoli, no, è così, cioè tu stai a metà del corso della notte, l'alba comincia ad avvicinarsi, quindi la luce vince sulle tenebre. Questa, come dire, questa logica temporale, in un qualche modo, è una logica che si vive all'interno della liturgia, diventa un segno stesso della liturgia. Già il giorno di Natale è un giorno che di suo mette in evidenza la vittoria della luce sulle tenebre. Tant'è che il giorno di Natale viene fissato al 25 appunto di dicembre, il giorno della nascita di Gesù, viene fissato lì, non perché alla fine i Vangeli ti scrivono che era il 25 dicembre, Gesù è nato, bla bla bla, tra l'altro nessuno stava lì a scrivere quando è avvenuta questa cosa, sì, abbiamo quel riferimento della questione del censimento, tra l'altro sono solo Luca e Matteo che ci danno dei riferimenti sull'infanzia di Gesù, Marco e Giovanni non ci dicono nulla, quindi abbiamo dei riferimenti abbastanza frammentari, diciamo comunque scarsi sulla realtà appunto della nascita e dell'infanzia. Ma di fatto il fissare in quel giorno è dovuto al fatto che precedentemente ci stava già una festa, una festa pagana, una festa pagana che appunto celebrava il Dio Sole, cioè celebrava la vittoria del Sole sulle tenebre. Perché? Perché questi giorni, cioè i giorni di dicembre, fino più o meno al 21, poi dipende, sono i giorni in cui la notte diventa sempre più lunga, cioè le ore di buio sono sempre più lunghe. Quando è che si comincia a invertire la rotta? Si incomincia a invertire dopo il 21 dicembre in generale, no? Quindi si inverte la rotta, il Sole incomincia, quindi il tempo di luce, incomincia ad avere la meglio. Quindi tu in quel periodo stai celebrando la vittoria della luce sulle tenebre. Siccome la luce del mondo per il cristiano è Gesù Cristo, noi celebriamo il Natale in quella data proprio perché abbiamo in un qualche modo sostituito la festa pagana della vittoria del Sole sulle tenebre con la vittoria di Cristo sulle tenebre del mondo, sulle tenebre del male, cioè sulla realtà negativa che attanaglia l'universo. Quindi già il giorno di Natale ha questo significato. La notte di Natale celebra proprio il momento di questa vittoria. Quando la notte era a metà del suo corso il mondo vide una grande luce, cioè nel pieno del buio della notte arriva la luce di Cristo. Ma noi abbiamo una data a cui attribuire l'esatto giorno di nascita di Gesù Cristo? No, non c'è una data come di fatto si fa fatica anche a definire realmente l'anno della nascita perché noi normalmente siamo abituati a dire questo è il 2019 perché sono passati 2019 anni dalla nascita di Cristo. Quindi quell'evento per l'Occidente diventa talmente importante che fa da spartiacque tra quello che è stato prima e quello che viene dopo. Quindi c'è prima di Cristo e dopo Cristo. E quindi noi consideriamo che l'anno appunto di riferimento sia l'anno zero. E quindi noi partiamo dall'anno zero e contiamo 2019 anni. In realtà quell'anno zero non riusciamo bene a definirlo per cui da tutta una serie di incroci di studi documenti sì, più che altro i riferimenti che si trovano su chi governava a quell'epoca che è quello che ci vengono riportate dai Vangeli il fatto della stella che passa che cosa possa essere o quale stella possa essere perché poi ci sono diverse comete che compaiono sul nostro cielo stellato di tanto in tanto e quindi facendo un po' di incroci di dati dovremmo risalire almeno al 4 o al 6 avanti Cristo cioè la data la dovremmo spostare indietro di 4 o 6 anni quindi non è questo 2019 ma sarebbe 2023 2026 25 insomma quindi non riusciamo nemmeno a definire realmente l'anno figurati il giorno figurati il giorno non riusciamo ecco perché il giorno è un giorno simbolico e come è simbolico il giorno del Natale cioè il giorno della nascita di Gesù è simbolico anche il giorno dell'annunciazione guarda caso 25 marzo che Gesù ha nove mesi precisi dove ha nascito e che poteva sgarrare e c'è figlio di Dio preciso insomma quindi è tutto ricostruito su come dire dei simboli o dei simbolismi che di fatto acquistano un significato cristiano cioè poi alla fine non è importante il giorno reale il giorno vero questo sarà nato il giorno X e ce l'abbiamo gli sto benedetto compleanno in un qualche modo la cosa che fa specie però è che io non riesco a capirla questa questione cioè è vero che andiamo se ti posso essere utile no è vero è vero che appunto esisteva una festa pagana precedente alla alla festa natalizia ma di fatto tu celebri Natale Natale vuol dire il giorno della nascita di qualcuno a meno che tu non voglia parlare della nascita del Dio Sole non so di che cosa tu stai celebrando la nascita di Gesù Cristo allora dire che noi dobbiamo ritornare a vivere un Natale laico perché sento anche cose del genere e sono cose su cui poi si instaurano anche modi alternativi di vivere la festa natalizia in un qualche modo secondo me è una contraddizione in termini cioè che vuol dire vivere un Natale laico anche il modo alternativo di vivere il Natale quale è la cosa io non so a Canosa ma non esco molto nemmeno ad Andrea ma le poche volte che mi è capitato di fare un giro in centro ad Andrea il 23 24 sera tutto sembra tranne che stiamo per vivere la festa del Natale perché perché il centro si trasforma in una discoteca a cielo aperto dove ci si ubriaca ci si fa di qualsiasi sostanza si trovi in circolo e dove è tutta una baldoria che col diciamo clima tipicamente natalizio col senso del Natale non ha nulla a che fare e quando tu vai a dire ma come mai tant'è che dà pure fastidio vabbè io esco voglio fare voglio farmi una chiacchierata con i miei amici per dire con delle persone non riesci perché devi strillare entri in un locale c'è questa musica che diventa assordante e dice scusa ma questo è il modo di vivere il clima del Natale e no dice noi dobbiamo vivere un clima del Natale che non è quello religioso ma è il laico che cosa significa sto Natale laico è una contraddizione in termini un Natale laico vuoi chiamarlo in un altro modo cambiali il nome vuoi fare una festa trova un modo diverso di definirlo se proprio vuoi ma finché tu dici che quello è o quella festa è la festa del Natale non puoi non fare riferimento al Natale di qualcuno cioè alla nascita di qualcuno che in questo caso è Gesù Cristo quindi per me celebrare laicamente il giorno del Natale è una condizione in termini ho capito allora siccome il nostro tempo a disposizione un po' comincia a diminuire sappiamo che le persone che ci seguono ci hanno scritto e ci scrivono delle mail mi ha colpito un messaggio arrivato da una signora di cui non non rivelo il nome che aveva necessità di chiederti proprio perché sta vivendo un momento un po' particolare della sua vita se poteva esserle utile chiedere e consultare una cartomante una cartomanzia a me ha colpito il fatto che lo chiedesse ad un sacerdote forse a chi l'avrebbe dovuto chiedere? ma no non so cioè io se mai mi fosse venuta in mente questa cosa un altro cartomante no avrei agito non l'avrei chiesto ad un sacerdote per cui mi ha colpito il fatto che volesse essere quasi assolta dal tuo sì procedi o no non lo so mi ha incuriosito molto che cosa possiamo consigliare a questa spettatrice? Beh intanto se una necessità ad andare da un cartomante o sente la necessità sente di dover o voler fare questa cosa bisogna che si chieda perché lo vuol fare cioè che cosa va cercando che cosa vuoi da questa che cosa ti aspetti anche perché questa è una domanda che uno si deve porre cioè io vado dal cartomante perché mi legga le carte e mi dica che cosa c'è nel mio futuro mi dica che cosa c'è nella mia vita nel mio amore nella mia relazione d'amore non so non ha specificato che cosa si no 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 ma io dico in generale per quale motivo uno dovrebbe andare a farsi fare le carte io diciamo allora se io voglio sapere qualche cosa mi illudo soltanto se vado da un cartomante perché cartomante mi possa o l'indovino o quello che c'è la palla di vetro mi possa dire qualche cosa davvero utile per il mio futuro la seconda maggioranza di queste persone alla fine sono dei ciarlatani possiamo dirla in questo modo un po' troppo forte non lo so si offendono però è gente che ha imparato molto spesso a utilizzare in maniera proprio favore la fragilità di un'altra persona la fragilità la crerudoneria delle persone quindi alla fine diciamo sono persone che cercano di sbarcare il lunario ma sulle spalle sulle spalle della gente soprattutto di quelli più fragili da questo punto di vista quindi in generale secondo me è questo il discorso dopodiché mi arriveranno in querele di 100.000 cartomanti non lo so ma funziona più o meno così dopodiché però il male esiste anche nel senso che il diavolo esiste qui c'è sempre il discorso del ci credi nel diavolo non ci credi se te la girano così tu dovresti dire no io nel diavolo non ci credo perché la fede è un atto che si deve solo a Dio cioè io affido la mia vita a Dio non al diavolo ma se uno mi dice esiste il diavolo oppure no io ti dico sì esiste il diavolo cioè il male ci sta e attraverso anche persone che praticano queste cose il male si rende presente si rende manifesto c'è gente che per una seduta spiritica per aver partecipato a cose di questa natura si è rovinata la vita di fatto quindi bisogna stare attenti anche che nella migliore delle ipotesi vai in bocca o nelle mani di un ciarlatano il quale ti svuota il portafoglio ed è l'unico danno che ti fa ma nella peggiore delle ipotesi può darsi pure che rischia un assoggettamento mentale e che tu in realtà stia aprendo le porte al male che poi prende possesso della tua vita in un qualche modo e da qui e da certi circuiti da certe logiche è complicato uscirne d'altronde tutto quello che noi dobbiamo sapere per la nostra salvezza per la nostra vita sta scritto nella scrittura ed è chiaro e tondo e ogni volta che a Gesù gli si va a dire quando avverrà questa cosa quando capiterà Gesù mai risponde su questo cioè l'attenzione di Gesù è volta al come cioè sì queste cose capiteranno avverranno arriverà il momento della fine arriverà il momento in cui dovremmo fare i conti ma non vi dovrete preoccupare del giorno preoccupatevi di come ci arriverete a quel giorno di come dovrete vivere fino a quel giorno cioè questo è quello che ci dovrebbe importare quindi per quale motivo dovrei andare da un cartomante a chiedere che cosa devo fare perché secondo voi le carte gli astri eccetera ci possono dare delle risposte concrete a come dovremmo vivere la nostra vita ok ci tenevo insomma a rispondere a questa spettatrice perché insomma i pericoli che si possono incorrere per cui se uno si aspetta la risposta secca è assolutamente non t'azzardare ad avvicinarti a una cartomante se era la risposta secca ma volevo motivarla proprio perché diciamo non si scherza con queste cose ok invece l'altra lettera che ci è arrivata ritorniamo sul tema natale riguarda il presepe la tradizione del perché si chiama presepe chiede Antonio Datrani e quando è nata la tradizione di allestirlo la tradizione risale a San Francesco d'Assisi tra l'altro il Papa proprio quest'anno è andato a Greccio dove San Francesco mise in scena la prima diciamo la prima manifestazione la prima rappresentazione di un presepe vivente dovette farlo vivente perché non aveva pastorelli né di legno né tantomeno di plastica che non stava e quindi fu una rappresentazione dal vivo del presepe una rappresentazione teatrale che potesse in un qualche modo parlare a tutti fa parte quella tipologia di rappresentazione di quelle di quelle forme che generalmente vengono chiamate il vangelo dei poveri perché vengono chiamate il vangelo dei poveri perché all'epoca di Francesco molte persone non sapevano né leggere né scrivere l'unica possibilità che aveva non c'era televisione non c'era radio non c'erano i social non c'era nulla quindi dobbiamo immergerci in un altro in un altro mondo e beh le persone semplici quale possibilità avevano di accedere al mistero di Dio i quadri perché tutti possono vedere un'immagine e cercare di capirla anche se magari non stai lì a a fermarti sui singoli particolari o a capire perché c'è un colore piuttosto che un altro e le rappresentazioni quindi Francesco cerca di mettere in scena il il mistero che si celebra attraverso appunto una una rappresentazione teatrale che possa parlare alla gente che non è non è in grado di leggere di comprendere complicati trattati che tra l'altro manco manco avrebbe trovato facilmente non è che andavo in libreria e ti compravi un libro no? cioè i libri scritti a mano tra l'altro erano una cosa molto rara quindi la tradizione del presepe nasce a Grecia perché si chiama presepe che molti cristiani manco lo sanno ho fatto la stessa domanda l'altra sera in chiesa e sono rimasti tutta a guardarmi di che sta parlando perché poi noi andiamo vogliamo eccetera andiamo per scontato una serie di cose perché il bambinello cioè il bambino Gesù che nasce e noi avvolgiamo in in una sorta di aurea di poesia quindi tutte le canzoncine di Natale tutte queste cose belle eccetera eccetera intanto nasce in una grotta in una in una stalla potremmo dire perché nessuno si è filato i genitori perché non c'era posto per loro nell'albergo si dice non se l'è filato nessuno quindi nasce in una stalla che altro che le stallette belle che addobbiamo nei nostri presepi è una stalla nel vero senza parola dove viene poggiato il bambino Gesù nella nella culletta sono diventate cullette no è una mangiatoia dove mangiavano le bestie c'era il fieno delle bestie pensate dicevo tutte ste mamme soprattutto quando c'è il primo figlio è quello sterile la mascherina mamma non sarebbe mai nato Gesù in questa situazione viene poggiato nella nella mangiatoia quella mangiatoia che non è una culla ma appunto il luogo dove mangiano le bestie in latino si chiama presepium da lì allora siccome il centro della scena non so se vi ricordate quella pubblicità al centro della scena di di Bonolis dice volevo stare al centro della scena che mi fanno il bue e l'asinello al centro della scena non c'è il bue e l'asinello ma la mangiatoia col bambino tutto il presepio si sviluppa a partire dalla mangiatoia quindi si chiama presepio perché parte dal presepio cioè dalla mangiatoia ok grazie prego io ringrazio chi ci ha scritto prima di tutto e anche chi ci ha seguito ci vediamo nella prossima puntata parleremo ancora del Natale va bene alla prossima puntata grazie 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 grazie